Un patto di fratellanza tra Canicattini e Greccio, una paese sui Monti Sabini in provincia di Riechi dove San Francesco d'Assisi nel 1223 realizzò il primo presepe per rappresentare il grande messaggio della Natività. A sottoscriverlo, dando seguito all'identica cerimonia che ho messa dietro si è tenuta a Greccio, sono stati il sindaco Paolo Amenta e Alessio Ciferri, consigliere comunale del Comune Laziale in rappresentanza del primo cittadino Emiliano Fabbi. Canicattini e Greccio si stringono dunque e camminano insieme lungo il percorso spirituale tracciato da San Francesco d'Assisi. Una scelta nata e condivisa a maggio scorso a Canicattini dai sindaci dei due comuni Amenta ed Emiliano Fabbi in occasione della visita di quest'ultimo nella cittadina eblea, ospite del locale Museo Tempo dove si trova un'ampia sezione dedicata proprio al presepe. Sì, una bella iniziativa soprattutto di un messaggio di pace, di serenità, di fratellanza con altri territori, con altri popoli a cui ci legano non solo la devozione e la passione per alcune iniziative che sono segnate ormai fortemente nella storia. Il Comune di Greccio ha ospitato nel 1223 la prima natività, il primo presepe fatto da San Francesco quindi per cui noi nel nostro Museo Tempo abbiamo dedicato una sezione a un presepe importante dove si possono tranquillamente leggere i percorsi delle nostre tradizioni popolari a Canicattini. Il gruppo dirigente del Museo Tempo, che io ritengo un gruppo di ricercatori, di gente che si muove nel tentativo di trovare delle iniziative, delle soluzioni, ha trovato e ha conosciuto questo territorio a cui ci legano una serie di iniziative che non sono certamente solo di devozione ma anche di tradizioni popolari. Porta benefici la condivisione delle tradizioni e San Francesco nel 1223 ha voluto provare con mano quello che significava nascere in una grotta in mezzo alla povertà e questa esperienza ci deve questa esperienza insomma ci deve trasmettere pace, ci deve trasmettere fratellanza e soprattutto in questo periodo martoriato dalle guerre.